Viene dalla Sicilia per pizzeria, è molto seguito anche lui su TikTok, su tutti i social, dai, è venuto a Napoli ad onorarci, ah che bella cosa, vai fatti una bella panoramica, Benni u Siciliano, eccolo qua amici, ciao Benni, ciao a tutti, Napoli, ciao Napoli, hai visto ragazzi, vai Benni, vai, sei un padrone, vai, grazie, vai, Dante, hai visto Benni, hai visto là il pulitore? I nostri amici pulitore, Benni, hai capito Ciro, che onore, il nostro Benni, sempre, ci è venuto a trovare da Palermo a Napoli, non vincevi, avete visto, non vincente, che bello, che bello, dai, ah che bello, dai, un siciliano che ama la maratona, dai, ci fa piacere Benni che sta qui da noi, è sempre un piacere, ok, va benissimo, vai Ehi, c'è il bull vai, dai, vieni Ehi, c'è il bull vai Ehi, c'è il bull vai Ehi, c'è il bull vai I kok, hai patri, c'è il bull vai Grazie. 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 Buongiorno. Grazie. Grazie. Palermo. Troviamo. Prima di una quindicina, c'è vai. Per questo lavoro deve fare delle cannone. Poi in un giorno andare a cercare. Una quindicina di cannone. Basta di cannone. Deve fare delle cannone. Quando torni dal quartiere se vuoi passare fino alle 4 siamo abiti. ok ok, buon lavoro questa è la spagnola, vero? Sicilia numero uno e anche non buon lavoro non buon lavoro non buon lavoro buon lavoro buon lavoro Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info